Oggi la vita è un simbolo, è il simbolo di una Venezia che reagisce e di una Venezia che si vuole liberare da quella che ormai è diventata un'occupazione, ma da parte del turismo. Un turismo che sta letteralmente invadendo la nostra città, le calli, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, ma che si appropria anche dei palazzi e anche degli immobili pubblici, per cui i palazzi vengono venduti per diventare alberghi oppure, come in questo caso, per diventare ristoranti. Il Movimento 5 Stelle si schiera al fianco degli occupanti dell'ex Osteria La Vida in campo San Giacomo Dallorio, venduta dalla regione a un imprenditore che vorrebbe trasformare in ristorante l'edificio sede dell'antico teatro di anatomia. L'ultima cosa di cui quella zona della città ha bisogno è una nuova attività turistica, tuona Elena Larocca. È fondamentale che il Consiglio Comunale utilizzi gli strumenti di cui dispone per frenare questa vendita e restituire a quel palazzo le attività dei cittadini e delle famiglie. Oggi l'immobile è vincolato e può essere utilizzato per attività di tipo ricreativo, associativo, per attività museali o espositive o biblioteche o attività di questo genere. Quindi senza un cambio di destinazione d'uso dato dal Consiglio non potrà esserci un ristorante là. La richiesta è questa, che il Consiglio unanime faccia propria questa battaglia della città per se stessa.